Devo lavorare non per me, ma per i miei figli, che non fa di mancare niente. Perché dici, guarda, questo te l'ha comprato la mamma, non gli hanno dato i soldi. Io non avendo tanta pazienza, magari scattava qualcosa e avevo paura di quello. Come faceva con me? Personalmente, avevo paura che succedesse anche al bambino. In realtà io lavoro da lunedì al giovedì, ho trovato questa signora che c'è stata una detta mensa part-time e la trova e provo. Sì, io con il mio lavoro part-time riesco a guadagnare solo dai 500 euro agli extra, 600 euro al mese. Ho scelto questo lavoro part-time per dedicare molto più tempo ai miei figli. Ciao! 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 Ciao!